Buongiorno a tutti, sono il dottor Andrea Russo, vengo da Milano e lavoro presso il centro di urologia avanzata. Sono stato invitato a questo corso dal dottor Antonini, è stato un corso molto interessante perché abbiamo potuto vedere un approccio sicuramente meno invasivo all'implantologia protesica peniena, è stato un corso in cui abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani sul campo e soprattutto di vedere l'ottima riuscita in termini di tempistiche, di passaggi operatori e di organizzazione di tutto quello che ha a che fare con questo tipo di intervento. Sono molto contento di essere stato invitato a questo corso. Grazie a tutti.